Violenta rapina ieri mattina in un'edicola Mariano Comense ha arrestato un ventenne, il giovane armato di un coltello lungo 35 cm di cui 25 di lama avrebbe fatto irruzione nel negozio di via Sonja attorno alle 9. Il malvivente ha minacciato l'edicolante e avrebbe anche sferrato una coltellata colpendo la donna ad una mano e ferendola, fortunatamente non in modo grave. Si è poi fatto consegnare i soldi, circa 200 euro secondo le prime informazioni. L'edicolante, una donna di 53 anni, ha chiesto aiuto e denunciato quanto accaduto. È stata a soccorsa e portata all'ospedale di Carate Brianza dove è stata medicata. Fuggendo dall'edicola, nella concitazione il rapinatore si sarebbe a sua volta ferito, forse cadendo. Il malvivente dunque si è allontanato dal negozio ma è stato poi costretto a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti i carabinieri che hanno rapidamente collegato il giovane ferito, un ventenne di Mariano, già noto alle forze dell'ordine, alla rapina appena denunciata in via Sonja. Il ventenne è stato prima portato all'ospedale di Desio e poi arrestato per rapina e portato in carcere al Bassone.